Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio primo video, volevo dire che sono un collezionista di, è un appassionato di cinema, film, videogiochi e quant'altro, ho deciso di iniziare con questo video, farevi vedere qualche steelbook della mia collezione, poi nei prossimi video vi farò vedere altro. Niente, questo è un angolo con, diciamo, tutte le mie steelbook e potete leggere qualche titolo e in alto, in bella mostra, ho messo secondo me due delle steelbook più belle che possiedo, una è la steelbook di American Beauty che secondo me è bellissima, eccezionale, è una steelbook edizione tedesca ma con ad un italiano veramente bella, forse in video non rende. E poi l'altra steelbook è quella di Willow, che è un film a cui sono molto legato e la steelbook è lucida e in primo piano ci sono i due protagonisti e anche a mio parere questa è una delle più belle che ho. Questo è il primo video, si conclude così e niente ragazzi, alla prossima.